La tecnica nerve sparing si applica all'intervento di prostectomia radicale e rappresenta la tentativo durante l'intervento chirurgico di risparmiare vasi e nervi che sono molto molto attivi alla prostata e che sono quelli che controllano l'erezione. Nella rimozione radicale della prostata è purtroppo a volte necessario o comunque possibile che ci sia un danno su queste strutture. La tecnica nerve sparing che poi nasce dall'affinamento degli studi di anatomia iniziati all'inizio degli anni 80 dal professor Walsh di Baltimore negli Stati Uniti e poi ovviamente a cui sono venuti in soccorso le evoluzioni tecnologiche, in particolare l'affinamento della chirurgia robotica, quindi quello che si ottiene è il risparmio di queste strutture al fine di garantire una ripresa funzionale più rapida e soprattutto più completa al paziente. Cosa però importante è che la nerve sparing non è applicabile a tutti i pazienti, il paziente va selezionato a priori perché deve essere un paziente essenzialmente giovane, deve essere un paziente che ha una buona funzione sessuale e soprattutto una malattia che alla biopsia risulti tale da poter consentire il risparmio dei nervi o da un solo lato o bilateralmente perché poi è ovvio che il risparmio dei nervi va bilanciato a quello che è il rischio invece di lasciare dei margini positivi e quindi mettere il paziente a rischio di ripresa oncologica della malattia.